segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te questo titolo come come ci guarda mosca perché riprendo anche il titolo che repubblica ha dato a un intervento a una lettera dell'ambasciatore russo in italia che si chiama lexiei paramonov e sulla quale mi sarebbe concentrarci perché ci sono naturalmente le no le novità che attengono il caso navanni ma poi una puntuale precisa strategia di comunicazione di reazione anche a questo caso da parte di di mosca allora le chiedo intanto partiamo dalle novità il questione raccontata sia dal ieri dal times e poi oggi da poi di nuovo anche da new york times la tesi che sia stato un colpo al cuore dopo una prolungata permanenza al freddo di navalni può essere considerato diciamo la lettura la versione definitiva ne arriverà mai una da putin no è una versione possibile noi sappiamo anche che la vedova invece ha parlato di un avvelenamento fino a quando non avremo il corpo fino a quando alla famiglia non verrà a essere restituito il corpo e questa è una cosa assolutamente drammatica sarà difficile anche fare un ragionamento di presunzione non c'è dubbio tuttavia alcuno che navanni sia stato ucciso e in russia non può succedere che venga ucciso il capo dell'opposizione senza che putin sappia nulla anzi senza che putin non lo abbia ordinato togliamoci dalla testa alcune recuperazioni mentali che sono tipiche nostre che noi vogliamo trasferire agli altri che sono basate su una a volte queste letture sull'idea che non fosse suo interesse come dire proprio alla vigilia delle elezioni in realtà il timing sembra perfino studiato guardi questo tecnicamente si chiama il pregiudizio dello specchio nel senso che noi siamo abituati ad attribuire agli altri quelli che sono i nostri pensieri e le nostre preoccupazioni e non c'è dubbio alcuno che in questo momento putin ha voluto mangiare un messaggio al mondo drammatico il primo messaggio è quello di escludere il candidato pacifista dalle elezioni ieri il ricorso del candidato è stato respinto dal consiglio di stato russo e secondo quello dell'uccisione di navani navani è il capo dell'opposizione la sensazione che il messaggio che si vuole mandare al mondo noi abbiamo il controllo assoluto della russia poi tutto questo avviene nel momento in cui la russia è anche all'offensiva in ucraina un'offensiva parziale è tuttavia un'offensiva il segnale in qualche modo vuole essere a specchio rispetto agli stati uniti mentre gli stati uniti sono impegnati nella più drammatica e difficile campagna elettorale della loro storia perché sono una democrazia vera e in russia ci sono le elezioni le elezioni forse hanno già un esito scontato e ci si può permettere durante le elezioni di cancellare uno dei candidati più importanti e contemporaneamente ammazzare il capo dell'opposizione e comprenderà che un messaggio al mondo drammatico certo allora arrivo proprio